Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, un marxista ha vinto elezioni presidenziali nello Sri Lanka e si tratta di Anura Kumara Dissanayake, 55enne leader del partito marxista leninista dello Sri Lanka che appunto domenica scorsa ha vinto le elezioni presidenziali. E' una svolta radicale a sinistra del paese svolta che ovviamente avviene in un paese dilaniato dall'inflazione, dal debito pubblico, un paese che è stato mandato di fatto in rovina dall'ex presidente Rajapaska che è scappato con un aereo militare alle Maldive, lui e tutta la sua famiglia, il paese è al collasso e in questa situazione gravissima un piccolo partito, cioè un partito che sino a 7-8 anni fa aveva il 5% dei consensi è riuscito a vincere le elezioni presidenziali. Nel Parlamento dello Sri Lanka è solo la terza forza del paese, dunque formare poi un governo che corrisponda alla guida poi del presidente dello Sri Lanka sarà difficile ed è probabile che ci siano dunque anche elezioni anticipate per quanto riguarda il rinnovo del Parlamento. Però ovviamente la notizia è importante, è importante perché ci raccontano tutto che il mondo è molto più complesso, bariegato di come noi occidentali continuiamo a raccontarci. Vuol dire che c'è ad esempio un mondo in cui uno schieramento socialista vince le elezioni con un partito che prende milioni di voti, c'è un mondo in cui ad esempio i dettami del Fondo Monetario internazionale vengono messi in discussione tant'è che uno dei primi atti ovviamente del presidente dello Sri Lanka è proprio quello di rinegoziare l'austerity concordata con il Fondo Monetario perché il Fondo Monetario quando c'è da risanare ovviamente un paese passa all'incasso cioè vuole tagli, 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 tagli della spesa pubblica, riduzione dei salari, privatizzazione dei servizi e poi appunto austerity cioè contrazione tendenzialmente dei salari e del welfare state. Questo chiaramente produce un effetto vizioso, non un circolo virtuoso ma vizioso, cioè il paese si impoverisce ancora di più e a quel punto diventa un paese alla merce dei capitali internazionali che possono acquistarne ovviamente i servizi, i beni, le strutture, le infrastrutture e poi anche tutte le strutture economiche. Questo voto racconta anche di un paese, lo Sri Lanka, che non vuole svendersi, che non vuole pagare anche le cattive politiche del presidente precedente, non vuole privatizzare tutta la struttura economica, non vuole privatizzare tutti i servizi e dunque un voto che racconta anche di un paese orgoglioso, racconta anche di un partito che ha provato ad organizzare i lavoratori, parla anche di un paese che probabilmente, vediamo se andrà in porto, potrebbe avere una prima ministra, un primo ministro, donna e si tratta di Amara Surija, che è una deputata comunista, un attivista per i diritti delle donne e per i diritti all'istruzione, dunque un attivista che potrebbe dare una svolta, oltre che femminile, anche di diritto all'istruzione, una svolta per quanto riguarda proprio la riforma scolastica, l'accrescimento del libro di istruzione del paese per permettere di uscire anche da una situazione di povertà culturale, di conoscenze e dunque offrire uno strumento reale e concreto di emancipazione a centinaia di migliaia, se non milioni, di bambini, bambine e ragazzi e ragazze. Dunque una svolta interessante, molto importante. C'è da renegoziare, dice appunto, il prestito e le politiche con il Fondo Monetario Internazionale e poi c'è da ovviamente ripensare al rapporto con le due super potenze demografiche e anche potenze economiche che di fatto dominano l'area e un piccolo paese come Sri Lanka è dentro il rapporto di forza politico-economico-militare dell'India e della Cina. L'India e la Cina stanno osservando che con curiosità quello che sta accadendo, ma non è una curiosità disinteressata. Pensate soltanto che il debito pubblico dello Sri Lanka è detenuto in gran parte dalla Cina, dunque se un paese detiene il debito pubblico di un altro, se le banche, gli istituti di credito, il governo di un paese detiene il debito pubblico, e poi è chiaro che quel paese lo può in parte governare, indirizzare, controllare. Dunque la Cina è ovviamente nell'area la potenza che influenza, se non la vittura determina poi la vita politica e economica degli altri piccoli paesi. E poi c'è anche l'India ovviamente che è interessata. L'India sta vivendo un momento anche di crescita politico-militare economica e un momento anche di rinnovato orgoglio indiano-induista, perché le forze politiche che governano il paese si richiamano anche proprio ai valori, alla tradizione induista, beh, è un momento anche di espansione e di imperialismo indiano. Dunque ad Oriente si muovono molto le cose, noi siamo concentrati sull'Ucraina, siamo concentrati sulla striscia di Gaza, siamo concentrati sull'attacco che Israele sta portando all'Ibano, siamo corti su guerre terribili, devastanti, che stanno travolgendo il diritto internazionale, lo stanno stracciando di internazionale in queste ore. All'Assemblea generale delle Nazioni Unite ci sono delle prese di posizioni durissime contro Israele, ve ne parlerò domani. Ebbene, noi siamo concentrati su questa parte di mondo, ma c'è un Oriente che si sta comunque muovendo, si sta muovendo in maniera molto molto interessata. Chi l'aveva mai detto che nel 2024 una forza che si richiama a un marxismo politico, cioè un'organizzazione politica di stampo marxiano, potesse vincere le elezioni nello Sri Lanka. Questo è accaduto per me, è un segnale proprio di eterogenità, al di là della curiosità e della simpatia nei confronti di questo Presidente, proprio perché mi sono andato a informare, ho letto alcuni suoi discorsi, c'è veramente uno slancio per cercare di rilanciare il Paese, di tutelare i lavoratori, gli studenti, c'è sentir parlare di lavoratori, studenti, pensionati, sentir parlare di classe sociale e meno abbienti da un Presidente della Repubblica, comunque a me emoziona ancora, e soprattutto mi dà la speranza che quei temi, che poi possono essere partiti avanti anche da altri partiti, ovviamente da altri movimenti difficili, mi dà la speranza che questi temi possano tornare al centro, e perché il dibattito politico è impressionante come da noi in Occidente stiano sparendo dalla discussione politica, dei programmi politici, i temi proprio dell'assistenza sociale, del welfare state, i temi appunto del lavoro, del salario, in un Paese come l'Italia o in un continente come l'Europa che ne ha avuti e ne ha avuti di alto livello, molto di più di quanto non ce ne sia noi in giro per il mondo, ad esempio in Oriente. Dunque forse noi abbiamo dato per scontati i diritti sociali e economici, abbiamo dato per scontato il welfare state, ma se c'è un errore che non va fatto per quanto riguarda i diritti è darli scontati, darli appunto conquistati per sempre. Non è così, i diritti vanno difesi sempre con grande attenzione, perché in un'epoca poi di grandi trasformazioni, di grandi anche crisi proprio, c'è chi pensa di ridurre i diritti. Ed è cosa sta accadendo da noi da direi 20 anni a questa parte. Cioè dal G8, dal 2001 in avanti, noi abbiamo una perda complessiva di potere d'acquisto, contrazioni del salario, precarizzazione del lavoro, tutte le leggi portate avanti per precarizzare, frammentare il lavoro, esternalizzarlo, umiliarlo, mercificarlo, ancora di più di quanto non sia già mercificato, per quanto nonostante alcuni soloni liberali continuano a ripeterci, si è passato dal diritto al lavoro alle opportunità lavorative, poi soprattutto si è passato dalla dignità del lavoro invece a ringraziare appunto se hai un lavoro. Ecco, questo è quanto sta accadendo appunto nel continente dove i diritti al lavoro erano cresciuti in maniera molto forte. Invece negli ultimi 30 anni c'è una contrazione, per non parlare chiaramente poi della istruzione, degli investimenti nell'istruzione, che non sono adeguate alle sfide dell'epoca, ma tolgo questa po' la sfida che è anche molto molto poi ideologica, non sono adeguate all'emancipazione delle persone. Dunque, ben vengono anche novità in giro per il mondo, anche se poi ovviamente se ci guardiamo vicini e vediamo questo orrore quotidiano, questa violenza. Per me le immagini delle famiglie libanesi che abbandonano il loro paese perché bombardato, perché Israele dall'ultimo anno lo faceva già in passato, ma non distingue più nulla, miliziani, gruppi armati, esercizi dai civili, anzi bombarda sistematicamente i civili, ebbene per me quelle immagini sono sempre più insostenibili, ma tornerò a parlarne domani. Buona giornata.